Celentano avanti ma si è vaccinato. Giuseppe, tu sai che Celentano si è fatto la puntura, tu lo sai. Giuseppe Visciano è in contatto con Adriano Celentano. Grande Giuseppe, grande. Che cazzo ne sai Giuseppe? Chi te l'ha detto? Hai notizie dirette? Stai giudicando e fai un errore clamoroso? A me risulta il contrario. No, non così. Questo ti devi ficare con le tue giudizie, con questi giudizi. Smettetela di giudicare, smettetela di dire cose che non sapete. Il giornale oggi, settimana l'oggi, mi hanno scritto per chiedermi un giudizio sui Maneskin. Ho risposto, stavamo facendo un articolo, abbiamo bisogno di un tuo giudizio. Ho detto non esprimo giudizi. Non posso giudicarli e non posso parlare di loro perché non li conosco. Io parlo di persone che ho incontrato, che conosco, di fatti che mi hanno raccontato loro. Ma io non giudico. Quindi, ma no, ma tu sei importante, sei un critico. Io non sono un critico. Ma ti darei molto spazio? Non mi interessa. Non parlo di qualcosa che non conosco. Quindi se tu non parli con Celentano, non puoi dire quello che Celentano ha fatto perché non lo sai. E smetti di dire cose che non sai. Smettete di scrivere di cose che non sapete. Grazie. 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 Grazie.